Quel cuore che ha tanto amato gli uomini vi spinge alle periferie della società per testimoniare la perseveranza dell'amore paziente e fedele. Dalla contemplazione del cuore ferito di Gesù si possa sempre rinnovare in voi la passione per gli uomini del nostro tempo, che si esprime con amore gratuito nell'impegno di solidarietà, specialmente verso i più deboli e disagiati. Così potrete continuare a promuovere la giustizia e la pace, il rispetto e la dignità di ogni persona. Testimoni di un amore senza confini, spesso anche fino al martirio. Papa Francesco ha incontrato i partecipanti al capitolo generale dei missionari comboniani del cuore di Gesù e li ha invitati a prendersi cura di quanti oggi sono abbandonati, con pazienza e mitezza, predicando il Vangelo in tutti gli angoli del mondo. Il missionario ha rimarcato il pontefice, esprimendo vivo apprezzamento per quanto fanno gli eredi di San Daniele Comboni nel mondo, si fa servitore del Dio che parla e la relazione della missione ad Gentes con la parola di Dio non si colloca tanto nell'ordine del fare quanto dell'essere. Così la missione, per essere autentica, deve riferirsi e porre al centro la grazia di Cristo che scaturisce dalla croce. Credendo in Lui si può trasmettere la parola di Dio che anima sostiene e feconda l'impegno del missionario. Nella parola di Dio, ha concluso Papa Bergoglio, c'è la saggezza che viene dall'alto e che permette di trovare linguaggi, atteggiamenti, strumenti adatti per rispondere alle sfide dell'umanità che cambia.